Ricetto papis, vicino a noce, rammo di emba, cato sportoso. Letteralmente in italiano sarebbe Disse il verme alla noce, dammi il tempo che ti perforo. Adesso è un po' come dire la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ma vuoi mettere ricetto papis, vicino a noce, rammo di emba, cato sportoso. Il piatto va servito freddo. Cioè, di che stiamo parlando? Cioè, quando tu dici o papis, capisci proprio la cazzimma del verbe che sta là, che durante l'anno, sapete che l'innocio che vi siete comprati in Natale scorsa e poi in Natale ancora le tenete perché ve le siete dimenticate? Eh, il noce, la cazzimma che si mette là, lui durante l'anno, piano, 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 piano e si, come dire, perfora tutta la noce. Quindi questo termine sta ad indicare una vendetta premeditata, perfida, oppure, come dire, una... Allora? Allora?